A me mi è cresciuto, io sono stato a Reggio a 14 anni da Catanzaro, se ne va l'inizio di tutta la mia carriera, lui mi ha voluto a Reggio, lui mi ha allenato, mi ha lasciato un bagaglio tecnico e morale indiscutibile, se ne va il migliore allenatore ed educatore che ci sia mai stato secondo me in Italia, ma non sono frasi fatte, sono i risultati, sono le persone che sono arrivate qua da tutta Italia, indescrivibile, poi un dolore per noi che siamo stati, lui è stato per noi il nostro campione d'Italia, noi per lui.